E siamo tornate molto molto impertinenti. Più impertinenti del solito oserei dire. Siamo in due oggi. Oggi siamo in due e se ci vedete con l'occhio che balla è perché sono esattamente le sette e mezza di sera se non più tardi. Abbiamo appena registrato una cosa come quattro puntate con due degli ospiti che ci hanno bidonato molto simpaticamente. Tra l'altro ci farei un ciak. Così. Proprio perché siamo noi. Perché siamo professionali noi. Bentornati. Scusate se appunto questa puntata sarà un po' così frivola però essendo anche Pasqua. A proposito buona Pasqua abbiamo deciso di fare una puntata un pochino più corta ma un po' più intensa così potete guardare la puntata come diciamo digestione. Delle uova di Pasqua, la colomba, il pranzone di tipa. Che poi cosa si mangia? Vabbè questa è un'altra storia. Un sacco di roba. Un sacco di roba. L'importante come al solito è mangiare. Vabbè noi niente benvenuti, bentornati. Chi ci sta ascoltando su YouTube ben visti. Qualcuno ci sta ascoltando su Spreaker, Spotify, iTunes, Apple Podcast eccetera. Mi raccomando ricordatevi di metterci cinque stelline e darci cinque euro possibilmente. Sì sempre. E su YouTube invece metteteci un like e iscrivetevi. E grazie come al solito anche ai nostri sponsor Red Bull e Xiaomi che ci accompagnano in queste nostre imprese meravigliose. Buona Pasqua anche ai nostri sponsor. A proposito, grazie per la nostra scenografa Frafol che oggi non è tra noi. Ma comunque è con noi tramite le nostre scenografie e grazie alla produzione colibri 12. Andiamo proprio già dritti al punto. Allora oggi è la resurrezione. Vabbè questa è un'altra storia. Oggi essendo Pasqua ci terremo a fare una cosa speciale con voi. La facciamo? Pronti? 3, 2, 1. Opla! Eccoci qua. Oggi apriamo due uova di Pasqua con voi. Disclaimer nessuno di queste case, come si dice, che è il produttore di uova di Pasqua che tra l'altro è lo stesso me ne accorgo ora. Nessuno ci ha pagato per fare questo video. Se ci avessero pagato saremmo ricche e non avremo le uova della Simpli in offerta 3 euro. Però dai, SpongeBob e i Pokémon non ci è andata neanche malissimo. Guarda che per questo ho speso addirittura 6 euro, eh. Perché quello è costato 3. SpongeBob a livello più basso. Questo però ho detto non potevo non prenderlo con Pikachu perché già ho preso Let's Go Eevee, mi sentivo in colpa e quindi ho preso Pikachu quasi. Dai, hai fatto bene. E quindi niente, se sentite un po' di rumore di carte, spacchettamenti e quant'altro, durerà pochissimo perché comunque spacchettiamo poi continuiamo a parlare. Esatto. Però voglio vedere soprattutto, sono molto curiosa di sapere qual è la sorpresa di questo uovo di Pasqua. Anch'io. Cioè, SpongeBob soprattutto. Che cosa... Ah, sai cosa mi piace fare con le uova di Pasqua? Che cosa? Romperle nei modi più brutti che poi esistono. Tipo in testa! Vuoi provare? A romperlo in testa. Poco, poco, è piano. Pronta? 3, 2, 1... Ah! No, non funziona. Non ho la testa abbastanza dura. Però proverò con questo sgabello che ho qua in fianco. Strano, non l'avrei detto. Perché sul tavolo poi vorrei fare... Aspetta, facciamo un'immagine di copertina. Ah, giusto, brava. Ora sapete il segreto delle immagini di copertina inutili di YouTube. Ah, aspetta, l'immagine di copertina! Esatto. E poi stai per tre ore a fare delle pose inutili. Comunque... Ok, proverò a... Ecco, dicevo, quello che mi piace fare tantissimo è rompere prima l'uovo malissimo e poi la gallina. Quindi, pronti? 3, 2, 1... No! Perché lo fai? Sei una persona che... Adesso è un uovo decoro. Sentite il rumorino ASMR. Oddio! Piano, 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 meno. È un po' tipo la pioggia ad agosto. Ad agosto, soprattutto. I temporali d'agosto. No, questo è più primavera. Basta, abbiamo capito, grazie. È pasquetta, sostanzialmente. Ok. Io sto andando di apertura. Comunque, volevo dirvi, tanto che spacchettiamo, che su Instagram vi abbiamo chiesto di raccontarci. Perché in questo format che stiamo portando, di podcast in cui siamo solo noi due, vorremmo coinvolgervi. Visto che gli ospiti, appunto, sarete voi e non degli ospiti fisici. E quindi vi abbiamo chiesto di parlarci su Instagram delle sorprese più brutte che avete mai trovato nell'uovo di Pasqua. Oppure, no. Oppure, in generale, sorprese brutte. Quindi adesso poi ne leggeremo qualcuno di quelle che ci avete mandato e ascolteremo i vostri vocali. Oh, mazza! Per farvi sentire l'uovo. Ah, diciamo che non è il cioccolato più buono in questo mondo, però... No, non mi piace. Non so se mi piace. A me è tantissimo. Allora, pronte con la sorpresa? Non riesco a mangiare. Com'è il cioccolato? All'appampo è buono. No, è che non riesco a mangiare con le cuffie. Ah, perché ti tolgono tutto? Mi toglie la mandibola. Comunque, a proposito di sorprese brutte... Dai, ma manco picca! Ma che è? Ma Mewtwo! Posso dire che la mia sorpresa corrisponde... Scusami, aspetta. Corrisponde esattamente al mio mood di oggi. Questo è Patrick. Scusa, le faccio vedere bene... Soprattutto... Aspetta che... Io intanto vi dico questo. Interessante. Allora, per chi ci sta ascoltando e basta... Ma abbiamo appena trovato rispettivamente una calamita... Di... Di... Scusa... Di Patrick. È una calamita di Patrick che però purtroppo ha un'espressione non troppo felice. Sei tu. Sono io, sostanzialmente. Io invece ho trovato, per chi non ci sta guardando, una manina... Di... Con Mewtwo disegnato... Fa vedere? Che io odio un po'. Bello, dai. Però fa niente. Mi spiace per gli amanti di Mewtwo. Con però degli evidenziatori. Cioè le dita di questa manina sono evidenziatori. Carini però. È una cosa meravigliosa. Bellissimo. Sono abbast... Devo dire che sono soddisfatta. Abbastanza soddisfatta. Speravo in Pikachu, ma anche in Mewtwo va bene. Anche perché poi si staccherà l'adesivo, quindi fa niente. Ho capito. Però... Comunque, insomma... Neanche... A parte che... Poteva andare peggio. La calamita... Oh, tra l'altro si attacca a questo tavolo perché è calamitoso. Quindi siamo... Vabbè, Francesca per masticare ha bisogno di togliersi le cuffie perché altrimenti non ce la fa. Vabbè. No, ragazzi... Non so, io non ci riesco a masticare con le cuffie. Poi il cioccolato è fastidioso. Vabbè, non sgagnarti tutto l'uovo però per favore perché ho bisogno di te viva. Beh, è un po' mukbang questo podcast. Sì, un pochino. Un pochino, sì. Che per chi non bazzica l'YouTube, magari li ascolta solo in podcast, un mukbang è quando mangi e fai un video. Però, allora, intanto vorrei che i nostri ascoltatori ci scrivessero qua sotto che cosa state facendo a Pasqua, se siete con i parenti, dove siete, eccetera, eccetera. Ma soprattutto, proprio parlando di uova di Pasqua, vorrei sapere che cosa avete ricevuto nell'uovo di Pasqua, se avete trovato delle belle sorprese o delle sorprese terrificanti. E quanto vi hanno fatto schifo. E parlando di sorprese terrificanti, come diceva Prima Cesca, noi abbiamo chiesto sul nostro Instagram, che tra parentesi è chiocciolayunicorn.island, ci potete trovare molto facilmente, è lo stesso nome del nostro podcast e del nostro canale. Vi abbiamo chiesto, appunto, sulle stories di raccontarci un pochino quali sono state le vostre sorprese pasquali, ma in generale anche un po' di regali proprio brutti che avete ricevuto nella vostra vita. Ad esempio, se possiamo cominciare, vado direttamente, con Lisa, che ci dice che per Natale, lei, l'anno scorso immagino, ha ricevuto un paio di calze gialle, rosse e blu, vi dico solo questo. Vabbè, però, per Natale questo. Per Natale. Per Natale, come dire. Poteva andare meglio, diciamo. Alla Befana, capivo anche di più, a Natale, dai. A Natale, ci sono confusi. Poi abbiamo, attenzione, questo, sì, bruttino, però anche un po' utile, c'è Anna che ci dice, nell'uovo di Pasqua una volta ho trovato un portacuffiette, era un sacchettino nero semplice senza alcun disegno, in più avevo solo sette anni, le cuffiette non mi servivano a un carota, non servivano assolutamente niente, effettivamente a sette anni. Che te ne fai, dici? Che te ne fai? Cioè, potevi darmi qualcosa altro di interessante. Ah, questo è bellissimo. Posso leggerne una io? Vai. Allora. Per il mio quattordicesimo compleanno, la moglie di mio zio mi ha regalato shampoo e balsamo. Io tutta contenta che spacchettavo il regalo e poi, puoi immaginare la mia faccia. Eh, forse era un invito a lavarti. Sì, ho capito, ma zia, c'è proprio shampoo e balsamo è brutto. Sì, è proprio triste. È proprio della serie, non sapevo assolutamente che cavolo regalarti. No, però anche a me, no, tipo a Natale, a me è capitata tante volte che magari arrivi quello che non sa assolutamente cosa parti come regalo, allora ti regala la shampoo e il balsamo, di dolce, com'è che si chiama? Ah, di, tipo... Non Napolina, quello dolce... Dolce... Dolce fio... No, non mi ricordo come si... Oppure quelli di erboristeria. Sì, esatto. Eh, si vede che ti vogliono mandare dei messaggi subliminali. Certo, sicuramente. Vai, vuoi leggere anche questo? Ah, questo è grosso. Questo ci rimane un po' male, secondo me. Vai. Ah, Chiara, che dice? Eh, niente, praticamente mia mamma mi aveva comprato l'uovo di Harry Potter, avevo circa sette anni e io l'avevo preso solo per la sorpresa che c'era dentro, cioè una collana o un braccialetto con i simboli. Arriva la mattina di Pasqua, io tutta eccitata vado ad aprire il mio unico uovo e purtroppo scopro che non c'era niente. probabilmente avevano sbagliato e non avevano messo la sorpresa, ma cavolo, proprio a me da lì è cominciata la mia sfiga. E poi mia madre non ne ha voluto comprare un altro. Ma che cosa triste. E si vede che sarà uno sbagliato, ho preso l'uovo maffo. Ma proprio lei, cioè l'unica, perché non è possibile, l'unico uovo maffo. Può essere. Che peccato, cioè che cosa triste, deve essere proprio triste, perché alla fine le uova di Pasqua, diciamocelo, chi è che le prende per il cioccolato? Il cioccolato delle uova di Pasqua? Fa schifo. Tra l'altro mia zia l'altro giorno tutta disperata mi ha chiamato per chiedermi disperatamente quale uovo di Pasqua dovesse comprare mio fratello per Pasqua, appunto. E lui diceva, ma a lui piacciono gli Avengers o gli piacciono di più, che ne so, i, come si chiamano, i Pau Patrol. I Power Rangers. I Power Rangers sono, diciamo, storia vecchia. Passati di moda da 46 anni più o meno. Abbastanza. Abbastanza. Vabbè, l'uovo dei Pokémon, diglielo che era carino, ce l'hanno dentro gli evidenziatori. Poi c'è Jacopo, invece, che ci dice, allora, ogni anno ricevo da mia zia, niente, le zie sono quelle che fanno, secondo me, i regali peggiori. Le zie e i vicini. E i vicini. No, non è vero, i miei nuovi vicini sono molto... Oppure le mogli degli zii, capito, quelli che sono gli zii, ma ancora più lontani. Esatto, la zia che non è neanche tua zia, poi, alla fine. Esatto. Dice che da sua zia, l'uovo grandi firme della Bauli, e per due anni di seguito ho trovato la stessa cinta per i pantaloni che ancora oggi non ho capito come si usi, perché è una chiusura strana. Anche quest'anno ho paura di trovare la stessa cinta. Poi fai un negozio di... Ma scusa, perché nell'uovo di Pasqua ci metti una cinta? Eh, guarda. Non... Cioè, è proprio un regalo triste. Sì, cosa ti serve, voglio dire. Che te ne fai, capito? Comunque qualcuno ci aveva mandato un vocale, ho visto. Sui Unicorn Island? Sui Unicorn Island. Allora aspetta che vado subito. Non ricordo, so che ho bazzicavo e ho visto. Comunque io adesso stavo pensando alle sorprese brutte che ho trovato nelle uova di Pasqua e che me ne hanno comprate talmente poche durante la mia breve vita, che non ho avuto tantissime sorprese di cui lamentarmi. Sì, infatti volevo chiedertelo. So che... Vabbè, ogni tanto trovi quelle cose inutili, tipo... No, vabbè, una volta ho trovato tipo delle mini racchette da ping pong, ma talmente piccole... Cioè, tipo grosse così. Veramente? Cosa me ne faccio? Già non so usare quelle grandi come delle padelle, ti uso quelle che grosso... Ciao Serena, ciao Cesca, ciao ospiti. È la 27esima volta che faccio quest'audio, non sto scherzando. Volevo raccontarvi la storia della sorpresa peggiore che mi siamo riusciti in un uovo di Pasqua. Avevo 5 anni, apro l'uovo delle wings, bellissimo. Vedo le gambe di Aisha, ero felicissima. Poi, guardo bene, aveva i capelli e le braccia di Stella. Aveva un occhio azzurro al posto del naso perché era stampato male. E poi quell'altro erano marrone. Ci sono rimasta talmente male che mi sono arrabbiata con mia nonna che mi aveva comprato l'uovo. E glielo ero buttata in faccia, ma... No! No! E niente, veramente ci sono rimasta così male. Va bene, dettagli. Ma nonna! E vi voglio bene, un bacione. Un bacione anche a te. Vi vogliamo bene anche noi. Soprattutto per questa brutta cosa che ci hai raccontato. Tanti baci, ma anche un po' di baci alla nonna che si è presa un uovo in faccia sostanzialmente. Povera nonna. Povera nonna che vita difficile. E vabbè, devo dire che... Ma come fai a fare una sorpresa così? Cioè, è proprio triste. Vai, vai, ti vedo carica. Ce n'è uno che è bellissimo. Facciamo l'ultimo, dai, così almeno facciamo questa puntata molto easy. Allora, attenzione. Ero già a fine terza media. Pronta per le superiori al compleanno in agosto. Dei parenti che ci vengono a trovare mi regalano un leggio barra portadocumenti di High School Musical. Ormai il periodo fangirl era passato. Che bello. Poi non ci sarei mai andata alle superiori con quello, giustamente. Tra l'altro che cos'era un leggio? Leggio barra portadocumenti. Ma sì, penso quelle robe... Ho capito. Bellissimo. Beh, vabbè, anche a me... No, a me non avevano regalato un portadocumenti. Forse avevano regalato il diario, tipo un libro speciale. Sì, forse un diario di High School Musical che stavo per andare al liceo. Dico, cosa... Mi stai seriamente regalando? Sì, ma anche a me è successo. Magari i parenti che non vedevo da cinque anni che erano rimasti ai cinque anni. Oppure avranno detto, ma sì, sono passati quei due o tre anni pensando ancora che io avessi, che ne so, dieci anni. Invece nel frattempo ne avevo tredici. Nel frattempo ne avevo trenta. Una roba che era inutile o bruttissima. Vabbè, ma è giusto. È giusto, così è giusto. I parenti sono fatti apposta. Come quando ti regalano i trucchi e tu dici, ma perché mi stai regalando? Anche da piccola, tipo, magari mi regalavano... O nell'uovo di Pasqua trovavi il cosino glitterato, il burrino di cacao. Dicevo, ma perché? Cioè, ma con tutte le cose... Ma perché? A parte che, vabbè, le uova di Pasqua è inutile. Ormai ci ho rinunciato. Devo dire che questi sono tra i regali più belli che mi siano mai capitati in un uovo. Pensa agli altri. Pensa agli altri. Oh, una volta mi è capitato... Forse era anche carino ai tempi. Un pupazzino, tipo un coniglietto, che lo schiacciavi e iniziava a cantare la canzoncina che tra l'altro era... Oh mio Dio, era di quest'affare qua! Ah, perché canta... In section. Withers, withers, withers... La conosci solo tu, questa canzone. Withers, la gioia del cioccolato, withers. Veramente? Sì, ma era un coniglietto che era dentro un withers. Vedi che nella vita torna tutto. Pensate, torna tutto. Io metterò questo come cappellino, comunque. Quella ti è stata regalata proprio per arrivare a questo momento della vita. Quindi vuol dire che stai facendo le cose giuste. Sto facendo la cosa giusta, l'universo mi sta mandando tutto. Forse è totalmente sbagliata, non so. Oppure, sì, dipende come la vedi, come al solito tutte le cose. Comunque niente. No, vabbè, ma anche io ho avuto, diciamo, dei regali non proprio carinissimi dalle uova di Pasqua, ma appunto... Anche a me forse è capitato di prendere, di ricevere tipo delle racchettine, quelle robe lì inutili che... Oppure quelle robe da costruire ma che non te ne fai niente. Sì, che poi non stanno insieme. Tipo le borsettine brutte, portatelefoni! No, il portatelefoni li apprezzavo un sacco, eh. Io no. Il mio Nokia dentro il portatelefono dei tempi, quando c'era il Nokia 5246, era bellissimo. Lì mettevi il portacellulare di Hello Kitty e... Quando hai 13 anni apprezzi, quando non hai 18 già meno. No. Che ormai c'hai l'iPhone, anzi lo Xiaomi. Lo Xiaomi, cosa dici? Tagliamo su di censuro, eh. Di censuro, carota. Ragazzi, scriveteci nei commenti i regali che avete ricevuto voi dalle vostre uova di Pasqua. Sono veramente molto, molto, molto curiosa di sapere che cosa avete ricevuto. Scolorarti in faccia. No, grazie, molto gentile. Scriveteci anche degli altri argomenti che vorreste che noi trattassimo su, appunto, questioni di questo tipo, con cui possiamo interagire con voi. Quindi che voi ci potete raccontare anche un po' le vostre esperienze da questo punto di vista. Esatto, dalle questioni più serie alle cavolate, che tanto noi siamo sempre contenti di fare un po' di cacciare. Esatto. Di fare le nonne della situazione. Esatto, esatto. Oggi siamo stati tutto il giorno con dei veniti, abbiamo un po' l'accento veneto. Abbiamo un po' l'accento... E vabbè ragazzi, direi che ci possiamo lasciare. Vi lasciamo andare o a mangiare ancora, o a digerire, o a fare la cacca. Per tutte queste uova di Pasqua, che effettivamente bisogna smaltirle da qualche parte. Esatto. Ancora buona Pasqua e buona Pasquetta. Non fate i birichini troppo a Pasquetta. Non fate i birichini a Pasquetta, fatevi una bella grigliata e via. Buona grigliata. Noi che facciamo a Pasquetta non si sa. Io sono in Sicilia. E appunto tu non ci sei a Pasquetta. Io che devo fare? Io farò una grigliata senza dire... Vabbè. No. 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 La grigliata. Va bene ragazzi, allora ci vediamo domenica prossima ore 12, sempre qua su Unicorn Island, sul canale YouTube Unicorn Island. Lasciateci un like e iscrivetevi se vi va. E ci vediamo anche su... Anzi, ci sentiamo. Ci sentiamo. Su Spreaker, Spotify, iTunes, Apple Podcast e quant'altro, le varie piattaforme d'ascolto, ci trovate sempre. Ricordatevi di darci 5 stelline e 5 euro. Esattamente. Ringraziamo ancora i nostri sponsor Red Bull, Xiaomi e la nostra produzione Colibri 12, la nostra scenografa Frafolk. Pace all'anima sua. Pace all'anima sua perché non oggi è. E niente, buona Pasqua amici, ci vediamo. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao.